Il bonus Cultura 18 Up è in scadenza. Fino al 31 agosto è ancora possibile richiedere il contributo di 500 euro per tutti i giovani nati nel 2003 e residenti in Italia. Ma di cosa si tratta esattamente? Con il bonus Cultura si possono acquistare biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici, musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, corsi di teatro, di musica, danza e lingue straniere. Il buono non ha limiti di spesa per ogni singolo acquisto, ma non è cedibile a terzi in quanto è strettamente personale, né sono possibili acquisti di più unità di uno stesso bene o servizio. Per richiedere il bonus 18 Up bisogna iscriversi sull'unico canale che permette di riceverlo, ovvero il portale www.18up.italia.it andando sulla home page del sito. Bisogna utilizzare le credenziali di identità digitale Speed o la carta di identità elettronica per autorizzare l'accesso. Dopo aver accettato le condizioni d'uso e aver ricevuto l'email di conferma della registrazione, si potrà visualizzare il bonus Cultura generato, spendibile, fino al 28 febbraio 2023. Questo può essere salvato in formato PDF oppure come immagine sui dispositivi digitali. Nei negozi basterà presentare il buono alla cassa in qualsiasi formato, mentre per gli acquisti online deve essere inserito il codice corrispondente al buono. Anche Amazon permette l'acquisto di oggetti con il buono 18 Up solo se è in possesso di un account associato ad un metodo di pagamento valido. Prima è necessario visitare il sito amazon.bonus18.it per inserire nell'apposita casella il codice del proprio bonus e convertirlo in codice Amazon per un massimo di 250 euro. Mentre per verificare che gli oggetti rientrino nel bonus, si consulta una lista ben fornita di libri, ebook, kindle, audiolibri, cd, vinile e dvd consultabile sulla sezione amazon.it. Slash 18 Up